buon tipo una gente sono luigi in artelusio e benvenuti a questa nuova video recensione sono ritornato un po più in chiaro dopo tutti questi ultimi video in cui ero di nero vestito vabbè volevo spezzare un po questa monotonia molto gothic horror e vabbè vabbè lo ammetto ragazzi io questi video li registro uno dietro l'altro e quindi ogni tanto mi cambio per non dare a vedere per non farvi dare la falsa impressione che non mi cambio mai d'abito in realtà potevo tranquillamente tenermi il lupetto nero e secondo me stavo pure più caldo perché sta felpa per quanto sia pesante è jada io appena mi sono cambiata me la sono messa proprio ho sentito un freddo gelido che mi attraversava l'anima percorrendo tutta la spina dorsale uscendo i fuori dal petto stile alien vabbè ok scusate questo è un piccolo dietro le quinte di come io preparo i miei video ma fine dei preamboli e passiamo alla recensione di cosa parliamo oggi oggi facciamo vediamo qua il grande ritorno di una vecchia conoscenza che sapevo che poi sarebbe tornato non sapevo quando né come dovevo prendermi i miei tempi per diciamo rigetta digerire qualche rospo ingoiato vabbè senza che ve la faccia troppo a lunga ecco di ritorno andrea siman con variazioni su un tema originale allora per i veterani di questo canale saprete che io a i due romanzi più noti più chiacchierati di andrea siman ho dedicato già due video recensioni che vi lascerò sempre qui nel pallino magico qui sopra se qualora voleste andare a recuperarli ovvero appunto chiamami col tuo nome uno dei miei romanzi preferiti in assoluto uno di quei libri che proprio mi hanno segnato l'esistenza e che mi hanno accompagnato per buona parte della mia adolescenza e cercami il sì il la la rappresentazione ideale di quanto certi sequel potrebbero anche tranquillamente non esistere anzi forse è meglio se non esi che non esistano un po come la nuova trilogia di star wars ecco se non esisteva magari forse eravamo tutti quanti più felici e contenti stessa cosa con cercami il seguito di chiamami col tuo nome allora io su quel libro già ho detto tutto quello che doveva dire non voglio più ripetermi in assoluto quindi qualora volesse conoscere la mia il mio discusso volevo dire la mia opinione schietta e sincera e tranquilla professionale non per nulla rabbiosa o delusa sempre qui nel pallino magico allora questo libro qua allora questo allora premettiamo una cosa questo romanzo è stato scritto prima di cercami ok e io ce l'avevo già da l'avevo acquistato già un paio d'anni fa però si era andato a finire tra i libri che dovevo leggere ne sto approfittando in questo periodo che non posso permettermi troppe spese ho deciso adesso mi dedico tutta la lettura dei libri che ancora aspettano da una vita di essere letti alcuni aspettano proprio da anni comunque per varie cose anche questo libro non l'avevo non mi sono trovato nel mood per leggerlo poi dopo la lettura di cercami ho perso completamente fiducia in assimanda e proprio non me la sentivo umanamente fisicamente psicologicamente non ce la facevo all'approcciarmi di nuovo a una lettura di assimanda con tutto che questo romanzo come vi ho detto è stato scritto prima di cercami però alla fine ho deciso di prendere un po il toro per le corna non ho voluto più girarci attorno e ho detto vabbè dai leggiamo e vediamo come va vediamo se riesco a dare una seconda do una seconda possibilità ad andrea assimanda vediamo se riesco a risolevarmi un po nella sua nell'opinione nella stima che avevo su di lui il risultato ve lo dico a fine video allora di cosa parla questo variazioni su un tema originale allora in soldoni questo romanzo ripercorre l'esistenza amorosa del suo protagonista di nome paul attraverso cinque fasi della sua vita infatti questo più che un romanzo possiamo definirla una raccolta di cinque racconti uniti appunto dal fil rouge di questo protagonista paul che ritorna in cinque fasi diverse della sua vita a raccontare a parlare dei suoi grandi amori inizia con il suo amore più di infanzia che da adolescenza dal momento che il primo amore il suo primo vero innamoramento avviene quando lui a 12 anni si innamora di questo di questo giovane operaio più grande di lui eccetera e inizia ad affrontare i primi le prime emozioni nel suo cuore ancora sospeso tra infanzia e adolescenza ripercorrendo poi questo amore dieci anni dopo quando ritornerà nel posto in cui tutto ciò è avvenuto quando ha 22 anni poi c'è un il secondo racconto che apprende in cambia un po l'argomento infatti per queste sono le variazioni sono l'amore visto in diversi in modalità e vissuto e visto in modalità differenti l'uno dall'altro il secondo racconto la seconda parte riprende un paul che ormai è arrivato ai 30 che che vive un poco un che sta che è suddiviso in che è letteralmente scisso in due tra una sua relazione stabile con la sua attuale ragazza Maud e però una latente attrazione per Manfred un ragazzo con il quale che ha conosciuto nei campi da tennis al parco e in più lotta anche con la gelosia al pensiero che Maud possa averlo tradito con un altro uomo non scendo troppo nei dettagli per non per non rovinarvi il colpo di scena di questo racconto io quando sono arrivato alla parte finale con quel con quel colpo di scena io sono rimasto what ma che davvero oddio volo volo nell'iperuraneo poi il terzo racconto che è stato quello che devo dire mi è piaciuto molto di più si concentra sul rapporto tra di questo amore silenzioso questo amore che si nutre di timidezza e di silenzi tra paul e manfred il ragazzo detto sopra ha detto di cui vi ho nominato prima già nel secondo racconto infatti sebbene non ci sia mai una specifica cronologica di questi racconti uno può andarsene per un'idea capendo che comunque il tempo va avanti mentre questo terzo racconto sembra essere quasi una sorta di spin off del secondo racconto come se andasse un po di pari passo come se il secondo e il terzo racconto andassero di pari passo poi il quarto racconto allora vi dico soltanto come si intitola questo quarto racconto questa quarta parte di romanzo si intitola amore stellare mamma mia penso che la mano che mi sono portato alla fronte sia piuttosto eloquente mamma mia già il titolo amore stellare che mi ricorda i più beceri romanzetti sentimentali pubblicati dalla newton compton che trovate nei centri commerciali negli scaffaletti di cartone a 5 euro e 90 massimo mamma mia e il contenuto allora guardate il contenuto non è nemmeno tanto da buttare perché è interessante questa volta da racconta di un amore vissuto a fasi alterne ovvero l'amore sempre tra paul e una sua compagna di università chloe che è un amore che si ripete nel tempo a distanza di ogni toto di tempo per lo più ogni quattro anni e alla durata massima di due giorni di solito un fine settimana quindi un amore che sembra grandissimo ma che dura due giorni ogni quattro anni è molto poetico però se ci pensate al di là di un po del para del suo essere così paradossale e devo dire come narrazione come argomento era pure interessante in pieno stile asiman però questo penso sia il racconto che più non mi ha convinto per molti motivi anzi posso dire che mi ha anche annoiato prima di tutto perché è troppo lungo non è il più lungo il più lungo è sicuramente il primo però mentre il primo racconto comunque è bello cadenzato bello ritmato varia questo quarto racconto che è lungo 60 pagine e quindi è il secondo racconto più lungo mamma mia ma è di una pedanteria di una pesantezza e una noia incredibile a un certo punto perché ti dice sempre le stesse identiche cose la narrazione non cambia sono sempre questi due che col trascorrere degli anni ogni tot di anni si vedono si amano fanno come se fosse l'amore come se fosse l'uno l'amore più importante della loro vita però intanto ritornano poi alle loro vite poi non si ritornano non riparlano più e già questo 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 modo di gestire la relazione mi ha fatto un bel po' sto cercare il naso perché ho detto mi sono chiesto ma scusa questi due portano avanti questa storia d'amore da anni e anni però intanto fino ad ora mi sono sorbito paul che ci parla di di nanni di mode di manfred ogni volta ce ne parla come se fossero i suoi più grandi amori le uniche persone che abbia mai amato nella sua vita poi salta fuori questa cloe che già era saltata fuori nel secondo racconto così in maniera proprio secondaria e scopriamo che lei sarebbe il suo grande amore più amore più grande di tutti gli altri c'è qualcosa che non ritorna qua in questo contesto allora allora sì io lo capisco ragazzi perché comunque dall'alto della mia esperienza posso anche capire che ogni volta non è che ci innamoriamo una sola volta e poi ci sono diversi tipi di amore quando finisce una storia d'amore anche importante comunque se riusciamo ad andare avanti possiamo ritrovare un altro amore sempre grande magari che però grande in maniera differente dal precedente o è sempre in maniera differente dai successivi ok questo lo capisco però mi sembra paradossale vedere che questo grande amore convive di pari passo con altre tanti grandi amori perché in questo caso o questo grande amore non è poi così grande oppure gli altri me li hai praticamente svalutati in due secondi almeno questa è l'impressione che ne ho avuto io mi ha parecchio sto mi ha fatto parecchio storcere in naso però questo era il minimo ci potevo anche passare oltre non ho potuto passare oltre al fatto che questo racconto mi è parsa un'anteprima della prima parte di cercami la storia l'ista love del padre di elio con la ragazza del treno miranda per carità questo è fatto mille volte meglio anche perché stiamo parlando di non stiamo parlando di un'ista love stiamo parlando di due persone che si conoscono si innamorano e capiscono comunque di essere destinati ma forse non sono destinati a stare insieme un po come mi verrebbe da da riresumare doson's creek con doson e joy che sono anime gemelle ma non sono destinati a stare insieme vabbè a me sinceramente doson mi è sempre stato qua dettagli miei a parte dettagli a parte ok ebbene accidenti ho perso il filo per colpa di doson's creek eh sì ecco dicevo il paragone con c'è con cercami allora qui è scritto veramente molto molto meglio questa storia però ci sono tutti gli elementi o comunque una parte di elementi negativi che io avevo trovato in quella parte di cercami a parte vabbè l'ista love che proprio non ci stava assolutamente che era campato per aria i personaggi che erano i non plus ultra del della ridicolagine ok però qua ho trovato la stessa pedanteria e lo stesso stile di asiman che per carità ragazzi allora a me piace tanto lo stile di asiman anzi io lo adoro però mi lo apprezzo unicamente se lo converte al genere introspettivo perché sono più per me è più coerente leggere una persona che fa questi certi ragionamenti certi voli pindarici che si esprime anche come un libro stampato però solo se è funzione della voce pensiero all'atto in cui tu usi questo determinato stile proprio da da libro da 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 libro stampato lo usi come espediente di dialogo tra dei personaggi no io la proprio non ci capisco perché obiettivamente nella vita reale la gente non parla così non ti fa certi discorsi come se stesse leggendo come se fosse appunto un romanzo cioè che ti racconta tutto un fatto con tanto di ragionamenti voli pindarici il mio maestro mi disse questo dice battuta battuta del professore battuta mia questo dissi io no la gente non parla così è e in effetti paradossalmente nelle altre parti comunque i dialoghi sono normali le persone parlano come parlano persone normali in questo quarto racconto vedo paul e chloe che parlano come se fossero come se non fossero delle persone come se fossero dei libri e questo è uno degli elementi che poi ho ravvisato già in cercami quindi ho detto ah ok quindi già in questo libro c'era già un piccolo acceno qualche seme qualche germe di quello che sarebbe maturato in cercami ah ecco già già ho capito bene già ho capito il fatto e paradossalmente io l'ho detto questo racconto questo quarto racconto non è da buttare assolutamente però io gli avrei tagliato tranquillamente 30 pagine perché se lo tagliava di 30 pagine questo 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 libro secondo me sarebbe stato un capolavoro non come chiamami col tuo nome ma sarebbe stato comunque un libro molto bello e gradevole per quelle 30 pagine di pesantezza di irrealismo di anteprima di cercami no non ha ragione io ho dato un voto pieno solo per quello e infine il quinto e ultimo racconto quinta e ultima parte ci mostra un po' il ormai sul viale dei ricordi siamo in una versione tempi moderni della morte a venezia in tempi moderni ecco quindi niente di tragico però è vediamo questo amore della maturità con questo poll che possiamo ipotizzare sarà intorno ai 50 anni avrà superato già i 50 che si innamora di questa ragazza più giovane e inizia un poco questo questo sorto questa sorta di rapporto più che altro platonico fatto anche un po di illusioni di un l'illusione di solito che che ci creiamo noi pensando a una storia d'amore che forse sta nascendo ma che o non sta o che alla fine non è destinata a nascere o che per un errore o nostro o dell'altro non vede mai la luce ecco e quindi è stata un'ultima variazione che ho trovato ben contestualizzata nel nell'intero arco narrativo di questo romanzo mi è dispiaciuto solo che sia subentrato dopo che mi ero già storto storto il naso con la quarta parte ma vabbè alla fine i libri così devono essere devono darti o gioie che dolori o sia gioia che dolori ecco bene quindi in conclusione ho rivalutato di nuovo asiman allora questo capisco che questo romanzo è stato scritto prima di cercami e infatti si vede ho trovato molto del bello che c'era in chiamami col tuo nome però purtroppo ho trovato molto del del male che c'era in cercami quindi in ultima analisi posso dire di aver fatto pace con con assiman come autore ma non mi sento invogliato a leggere altre sue opere di recente è stato pubblicato un suo nuovo romanzo ma non sono tanto invogliato ad acquistarlo né a leggerlo quindi penso che con assiman rimango fermo qui preferisco mantenere intatto il bel ricordo che ho di chiamami col tuo nome e nient'altro vabbè poi la vita è lunga sperando il dio e chi lo sa potrei sempre cambiare idea alla fine vediamo io comunque per il resto diciamo che con questo romanzo preferisco prendere congedo definitivo da assiman quindi in ultima analisi consigliato sì ragazzi io di solito i libri comunque bene o male io ve li consiglio sempre però considerate che se non siete se non avete fatto amicizia con lo stile di scrittura di andrea assiman già con chiamami col tuo nome non non penso che allora questo sia il libro che faccia per voi e in più se siete rimasti delusi da cercami leggetelo con la consapevolezza che cercami iniziate già un po a intravederlo nel quarto racconto ma per il resto devo dire gli altri racconti si leggono veramente con piacere i primi tre devo dire mi sono piaciuti molto il quarto è stato proprio un un callo tremendo e il quinto è poteva interessante nel suo modo nel suo nella sua struttura nei suoi contenuti però l'ho detto purtroppo il fatto che superavviene dopo la parte che per me è la peggior in assoluto l'ha un po inficiata io infatti dalla qui dopo quella quarta parte arrivato alla quinta parte l'unica cosa che sognavo era di finire subito di leggerlo e passare ad altro quindi mi dispiace di non essermela nemmeno goduta quell'ultima parte che è comunque scritta pure da dio eppure tratta un argomento bellissimo commovente struggente soprattutto in maniera molto interessante e beh mi fermo qui per ovvi motivi allora bene io concludo qui il video e spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra se avete letto questo racconto di asimano oppure se avete letto anche chiamami col tuo nome oppure cercami caso mai io vi invito pure a recuperare le altre due recensioni a questi due romanzi se non li avete ancora visti e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao